io sono spilorcio la maggior parte del tempo e non spilorcio quando ci sta che non lo sia ma quando i soldi riescono ad andare al di là del costo in sé per esempio andiamo in Giappone, Mario, quanto costa? 2000 euro non vengo, non vengo ma come dai ma certo che ce li hai a parte che poi in banca non ne ho 200.000 200.000, 2000 euro, cioè là se avessi 200.000 euro in banca 2000 euro li spenderei a cor leggero comunque no, io 2000 euro per il Giappone non li spendo e perché? Perché non li spendo? perché io so che per quanto possano essere super amici per esempio i Merrino con i quali sarei non saremmo soli i Merrino sono delle persone che hanno dentro di sé un grande quantitativo di energia un grande quantitativo e voi lo sapete perché li seguite e quindi sapete che prima di tutto sono dei grandi artisti tutti e due uno da un punto di vista registico, creativo, manuale, artigianale l'altro da un punto di vista brillante, eclettico, performativo nel senso si completano anche quindi wow ma ciccio Merrino per esempio quando tu gli fai usciare la minchia ciccio Merrino ciccio Merrino la sua faccia viene completamente deformata da quell'usciamento di minchia per esempio se succede una cosa dove c'è proprio un rischio, c'è un rischio Marco sentirebbe per esempio la responsabilità di agire cose del genere, no? se si parla di me, Mark e ciccio là non avrei per niente paura perché sono i miei amici eccetera ma nel momento in cui vanno in Giappone con dieci persone che non conoscono perché il viaggio in Giappone è anche con dei follower chiunque voglia partecipare io di questa chimica di due persone che per quanto so che sono buone talentuose ma pur sempre straordinariamente energiche con dieci incognite io duemila euro non li investo perché se mensama a Dio nel caso malaugurato che succedesse qualcosa che mi fa usciare la minchia io penso soltanto ai soldi che ho speso poi ovviamente non dico di aver ragione dico come me la vivo io per esempio quando siamo stati non mi ricordo dove c'è stata una persona che ha fatto usciare il cazzo a ciccio e ciccio è diventato aveva tutte le ragioni del mondo ciccio per essere innervosito, no? però per esempio sono stato coinvolto sopraffatto da un pezzo di merda che ha dato fastidio al mio amico e il mio amico che ha un pochino trasformato il suo umore e io non voglio vivere gli umori della gente quando ho speso così tanti soldi e colloqui per capire chi far venire dovrei esserci anche io ma tu hai tutte le ragioni per dubitare di noi no Zayt ma ho fatto partire il discorso dubitando anche dei miei amici per farti capire che non è tanto la paura di incontrare una persona cattiva ma quanto di scoprire un connubio di energie che biologicamente andrebbe e in un modo che magari non mi piace io sono anche una persona pretenziosa molto lamentosa quindi poi Zayt se mi dici che ci sei tu quasi 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 ci ripenso anche e ma dico ma di che colloqui stiamo parlando siediti siediti cosa diresti se ciccio merrino ti facesse un un balletto davanti a te mentre stiamo mangiando del carpaccio di tonno arigato porco dio dai sali con noi nell'aereo ma che domande si possono fare in un colloquio del genere arriva una non 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 ha senso quindi io visto che che ho paura di questa cosa di avvelenarmi il viaggio visto che che costa così tanto starei sempre a pensare ai soldi che ho speso e io i soldi li spendo quando capisco che sono spese giuste 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 quando non c'è proprio il rischio spero che nel mio discorso vi sia capito che non colpevolizzo nessuno e soprattutto non è soltanto una questione di mancanza di fiducia ma capire che ci sono delle cose nel mondo che sono entropiche e inevitabili e io preferisco che queste cose entropiche inevitabili mi succedano e me la chiamano nel culo quando penso semplicemente ai 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 che male che mi fai non ho speso 2000 euro perché là veramente la 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 mi uscerebbe il cazzo e quindi questa è la mia decisione è per questo che non non vado in Giappone non voglio non voglio avere dei non voglio avere dei rimorsi e l'unico rimpianto che posso avere l'ho già ho già convissuto con questa cosa e minchia bro ci siamo divertiti tantissimo e ci saresti stato tantissimo io la farei mi dispiace è vero ho perso un'occasione e questo lo dico è Grazie.